5, 4, 3, 2, 1, vai! In destra 2 più taglia vai, 40, destra 3 più stringi su ponte vai, 40, e attenzione sinistra 3 più in due tempi, per destra 3 più lunga gira vai, per accenno sinistro, in destra 3 più gira taglia, 10, sinistra 3, subito sinistra 2 più vai, 40, sinistra 4 più gira vai, in destra 3 più taglia, per accenno sinistro vai, 30, destra 5 più 40, e attenzione destra 2 più gira ponte, in sinistra 2 più gira, per accenno destro, in sinistra 3, in destra 2 più taglia, sporco, per accenno sinistro, in destra 2 più vai, 40, e attenzione sinistra 3 stringi 20, e al rail sinistra 2 più gira vai, 30, sinistra 4 più vai, per accenno destro vai, 30, dopo dosso, accenno destro, e accenno sinistro vai, e accenno destro, 40, e al cartello, attenzione destra 2 più, 20, sinistra 2 più 30, e attenzione destra 2 più gira, in due tempi, il secondo chiude, 40, sinistra 3 più, in sinistra 3, subito destra 2 più gira, 20, e sinistra 4 più gira in due tempi, 20, e attenzione sinistra 3 lascia, taglia, subito destra 2 più, per sinistra, per sinistra 3 più gira in due tempi, vai, per accenno sinistro vai, 40, e destra 3 stringi, vai, sul dopo dosso 30, e al rail destra 2 più, 30, e sinistra 2 più gira, subito destra 2 più, 10, destra 3 gira, lascia sul ponte, lascia sul dosso, per accenno destro, 30, e al rail destra 3 più, stringi, lascia, 40, e al rail sinistra 2 gira su ponte, viscida, per destra 2 più gira vai, 50, destra 4 stringi, vai, 30, e attenzione accenno destro, subito destra 2 meno, subito sinistra 2 più, 30,